Siamo all'Istituto Superiore Marconi di Catania, una delle scuole hub della rete palestra dell'innovazione. I ragazzi hanno appena finito di decorare la loro scuola con il materiale dell'immagine coordinata. Ragazzi, per voi essere incoronati come scuola innovativa, che cosa significa Simone per te? Essere a posto con i tempi. Siete pronti alla sfida che vi aspetta?